Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale, per chi non mi conoscesse io sono Manuela e oggi ci occupiamo della nuova collezione di Charlotte Tilbury. Purtroppo questo video sarebbe già dovuto uscire comunque a giorni, non sarà così perché sono una pasticciona e la prima volta che l'ho girato mi sono dimenticata di azionare registra, la seconda volta mi sono dimenticata del microfono e quindi niente, è andata male. In realtà non è andata così male perché nelle prime volte che l'ho registrato, ecco, nelle conclusioni vi avrei detto non saprei, non saprei bene cosa penso di questa palette, mi riferisco soprattutto alla palette occhi perché non avevo molto le idee chiare e invece così me le sono chiarite perché l'ho usata più volte. Torniamo però alla collezione. Per questo Natale Charlotte ha fatto uscire una palette occhi e due palettine viso di cui io ne ho presa solo una per una questione di colori. In realtà sarebbero usciti anche due rossetti però sono usciti in un secondo momento e quindi non li ho presi e non penso neanche che li prenderò perché fare un ordine sul sito solamente per due rossetti so già che non lo farò. Mi sarebbe piaciuto provarli perché i colori mi interessavano ma queste uscite così spezzate non le capisco tanto soprattutto se fanno parte della stessa collezione ma soprattutto se nella seconda tranche mi fai un'uscita così piccola, non consistente. Niente, pensieri miei questi. Per quanto riguarda la palette occhi, quando l'ho vista su Instagram non so, mi ha lasciato un po' così. Innanzitutto il layout perché ricorda tantissimo oltre che la palette di Uda 9 colori, le palette di Uda 9 colori, a me ricorda di più le palette di Makeup Revolution di cui io non sono assolutamente fan. Questa è quella di Uda per un confronto di dimensioni. Ma lasciamo stare il layout, a parte che specchia tantissimo ma anche la color story che non mi diceva niente di che. Infatti non ero molto sicura di prenderla anzi molto più no che sì. Poi, come al solito, quello che mi ha fregato sono stati gli swatches degli shimmer. Tra l'altro questa palette arriva dopo un anno di pausa di uscite di palette per la collezione natalizia. Infatti negli scorsi anni uscivano queste palette qua, eccola, a 12 colori di cui io ho solamente queste due. Anche qua per una ripetizione in Charlotte di alcuni colori, spesso. Ecco, questa è la Bejeweled to Hypnotize, mentre questa è la Terry Eyes to Hypnotize. Questa è uscita precedentemente all'altra. L'anno scorso, però, per Natale, sono usciti questi ombretti mono qua, gli Hypnotizing Pop Shot, di cui, anche qua, io non ero molto convinta. Non li avrei presi, non fosse stato per il canale, ma devo dire che mi sono altamente ricreduta. E infatti la mia speranza era che succedesse la stessa cosa con questa nuova palette. Questi ombretti qua non mi convincevano tanto solamente perché io non sono una persona da ombretti mono. Sono da palette. Infatti non li uso tantissimo, ma li uso più di quello che mi aspettassi e mi piacciono tantissimo. Purtroppo so che molti di questi sono fuori produzione. Sul sito rimangono alcuni colori in vendita. Dopodiché la speranza è appunto quella di cambiare idea su questa palette, come ho fatto con gli Hypnotizing Pop Shot. Che devo dire, anche se l'anno scorso non ero così entusiasta di questa uscita, un po' sono dispiaciuta che non li abbia riproposti, magari in altri colori, oppure rimettendo in vendita quelli che ormai sono sold out. Detto ciò, però, io inizierei dalla palette viso. Quello che ho indosso lo trovate giù nel box informazioni. Ho solamente un po' di contour del bronzer in crema di Charlotte Tilbury, perché stamattina io sono andata in giro, così, truccata con fondotinta, correttore, senza però truccare occhi, oppure mettere blush e illuminante, ma volevo avere un po' di dimensione sul viso. Quindi ho messo un minimo di contour. Spero che non interferisca troppo con il colore, ma ci sono andata molto molto leggera. Ho fatto così perché sennò non avrei girato neanche oggi. Questo è l'Hollywood Blush Glow Glide Palette, colorazione light to medium, che contiene un blush rosato, un illuminante rosa perla. I blush hanno delle polveri pigmentate perfezionanti, che permettono un'applicazione setosa e una resa cromatica intensa. Hanno degli agenti filmogeni per garantirne una lunga tenuta e un complesso levigante di amido di riso. Il blush, infatti, è parecchio, parecchio pigmentato. Mentre l'illuminante è anch'esso una polvere, contiene una tecnologia light flex, che è in grado di adattarsi trasformando la carnagione, perché diffonde la luce dando un effetto liftato con un finish soft focus. Contiene perle pressate per perfezionare la grana della pelle, ma non contiene glitter. All'interno sono anche dei polimeri leviganti e della silica per un effetto soft focus. Di questa palettina qua, vi ho detto, ne è uscita un'altra colorazione, che è la Tum to Deep. Questa ha all'interno un blush rosato e un illuminante rosa perla, mentre nella colorazione Tum to Deep il blush è un terracotta e l'illuminante è un dorato. In realtà a me sembra più un dorato bronzato, tanto è scuro, ed è il motivo per cui non l'ho presa, perché in realtà il blush della Tum to Deep, forse come colore, mi piace di più rispetto a questo. Tra l'altro il colore di questo blush in camera, ma anche nelle immagini, nelle foto su Instagram o sul sito, è molto più tranquillo di cosa è in realtà dal vivo. Dal vivo è molto più acceso, sembra quasi un evidenziatore, scusate io lo chiamo sempre così questo colore, più che essere rosato, questo è un rosa corallo, decisamente un rosa corallo, per niente un rosa freddo, ma d'altronde è Charlotte Tilbury, non ci si può aspettare un blush freddo, questo lo sapevo, però quando l'ho visto ho detto, mannaggia. E tra l'altro ci sono andata con un pennello che adesso non ho qua purtroppo, l'ho applicato per la prima volta con il refro numero 37, che è un pennello che preleva praticamente tutto, che però dà con i blush di questo tipo, che invece sono in polvere, un payoff abbastanza importante, motivo per cui oggi vado ad usare questo qua, questo refro numero 5, che ha una punta un po' meno densa di setole. Lo vedete un pochino macchiato, anche se ho cercato di pulirlo su un panno in microfibra, perché appunto quando ho cercato di girare inutilmente questo video ho usato lui. Iniziamo appunto da questo blush, volevo farvi vedere appena sfiorato, il payoff è molto importante, spero che vediate, se si sbatte fa piuttosto polvere, spero che si veda, mi raccomando in caso scaricate anche sulla mano, perché se no il rischio macchia è dietro l'angolo, poi si riesce più o meno a sfumare, però è una polvere che tende secondo me un pochino ad aggrapparsi alla pelle e quindi può darsi che si faccia un minimo di difficoltà a sfumare, poi ce la si fa, però ecco non complichiamoci la vita quando non è necessario. Questo è il payoff con un solo strato, è un blush pigmentato, ha una polvere bella pigmentata, è poco pressato, polveroso, però è modulabile. Ma è modulabile se si prendono le dovute precauzioni, ne riprendo un altro po', sempre sbattendo il pennello, perché voglio che vediate bene il colore in camera. Comunque questo blush contiene delle polveri perfezionanti, tra cui amido di riso, che dovrebbe aiutare a levigare la pelle. È un po' leviga, naturalmente io mi tengo sempre un po' più verso l'alto e l'esterno, quindi qua io non ho grossi problemi ancora rispetto al centro del viso, quindi questa cosa la vedo relativamente poco qua, ma ha un potere leggermente levigante e contiene agenti filmogeni che dovrebbero aiutare con la tenuta, è infatti dato come un blush a lunga tenuta. Su questo più o meno, nel senso è un blush che dura bene, ma nella media, 8 ore se le fa. Non arriva secondo me vividissimo a fine giornata, però a fine giornata c'è ancora, non in modo così vivido come ad esempio quelli di Pat McGrath, che per me rimangono quelli più a lunga durata in assoluto. Proviamo a metterne ancora un po', perché non so quanto riusciate a vedere di colore. Comunque vedete che se si prendono le giuste misure si riesce a stratificare, se invece si va con un pennello che non è adatto, che preleva troppo prodotto, oppure non si scarica bene tutto, il blush non è modulabile. Si ha subito il colore bello presente. Questo blush io lo trovo più polveroso dei Chic to Chic, si chiamano così, sì, quelli con l'illuminante al centro della cialda. Questo credo sia dovuto al fatto che è poco pressato in cialda. Passiamo adesso all'illuminante che vado a mettere da questa parte. Questo illuminante spolvera anche lui, comunque lo metto con questo pennello di Charlotte Tilbury, contiene una tecnologia light flex, qualcosa del genere, che dovrebbe aiutare a liftare la carnagione. Adesso a me sembra un po' un'esagerazione. Comunque il colore è un rosa pescato, non contiene a detta del sito glitter, io non ne vedo, però devo dire che è un blush, sì un blush scusato, è un illuminante abbastanza sul lato metallico che rimane un pochino spesso secondo me, quindi ha bisogno di essere ben lavorato e sfumato sulla pelle, almeno a mio gusto. Non è che mi faccia impazzire, dovrebbe avere anche dei polimeri leviganti per un effetto soft focus, per lo stesso motivo anche della silica. Io non lo trovo così levigante. Rispetto ad altri illuminanti che ho, anche di quelli di Charlotte Tilbury, questo non conterrà glitter, ma qualcosa mi accentua di texture. A differenza di altri illuminanti di Charlotte Tilbury che contengono glitter e che sì, non vanno a levigare, ma questo accentua un po' le imperfezioni pori sulla mia pelle rispetto ad altri. Peccato perché io questo duo qua l'ho preso, a parte per la recensione su YouTube, ma l'avevo preso per l'illuminante perché mi sembrava, soprattutto dal nome che vi ricordo essere Hollywood Blush and Glow Glide Palette, il nome Glow Glide mi ricordava quelli in cialda singola che non ho qua. A me quelli piacciono molto, li trovo stratificabili, si può passare da un effetto molto soft a uno più importante. Non credo che vadano ad enfatizzare in questo modo la grana della pelle, ma io quell'illuminante lì ce l'ho nel colore più chiaro, Moonlight Glow. L'avrei voluto prendere anche in Pillow Talk, poi mi sono data una calmata e non l'ho preso e speravo che questo qua, visto che anche il nome lo ricorda, fosse quell'illuminante lì in Pillow Talk, ma non è così. Adesso vado a mettere un po' di blush anche da questa parte, qua ne ho preso già di più fin da subito. I colori di questo duo secondo me stanno bene assieme, nel senso l'illuminante è un pescato rosato per me un po' scuretto, ma con il blush si fondono bene assieme, non si vede troppo e infatti questa palettina dovrebbe andare anche bene per una carnagione media. Vado poi a mettere l'illuminante da questa parte e questo è il risultato del blush dell'illuminante. Mi stavo dimenticando, il packaging di questo duo ricorda tantissimo una palettina mini, uscita credo per il Natale di due anni fa se non sbaglio, che era in realtà il mini di questa palette Film Star Bronze and Glow contenente il colore da contour e l'illuminante. Questa palettina qua è praticamente il rifacimento di quel duo come packaging, queste sono le dimensioni. Tenete conto che questo qua contiene 7,5 grammi mentre questo ne contiene 22,5 e infatti la differenza di prezzo è sostanziale, però per un blush, un illuminante come quantità ce n'è a sufficienza. Ma adesso paletto occhi, questa è la Beautyverse Palette, io questo nome non me lo ricorderò mai e vi ho detto che è parecchio simile come layout a questa qua di Huda Beauty, in realtà ha tutte le nove colori di Huda, ma in realtà il packaging è identico alle palettes viso. Io ne ho due di queste qua, questa è la Nudegasm Face Palette, vedete la dimensione è esattamente la stessa, cambia solo il motivo davanti, ha un packaging appunto uguale a quello delle palettes viso precedentemente uscite, con il davanti glitterato e un degradé di colori dell'arcobaleno che riflette i colori all'interno. È una palette di nove ombretti in edizione limitata con tonalità neutro dorata e lilla argento che esaltano lo sguardo in un mix di effetti opachi e metallici, un filtro di bellezza per occhi da star. Charlotte dice di essersi ispirata alle sirene per infiniti look da parti. Contiene tre finish, quattro cialde matte nella formula future matte che ha un finish setoso e dovrebbe avere anche un effetto soft focus sulla palpebra, perché contiene all'interno silica e mica, ciò dovrebbe permettere un'applicazione setosa e una resa cromatica intensa. Poi c'è il finish crystal glow che dovrebbe dare un finish scintillante, contiene pigmenti perlati per un effetto multidimensionale come il cristallo. L'ultimo finish è il party topper ed appunto un topper per aumentare la brillantezza, l'effetto bagnato. Come primer occhi ho applicato questo qua di Pat, questo è l'intensify ice primer. Vi dico mi sta piacendo e non me l'aspettavo, soprattutto sentendo la texture non mi aspettavo avesse questa tenuta, però bisogna fare attenzione, stenderne un velo sottile. Quando lo si mette sull'occhio sembra di non applicare niente, in realtà il prodotto ne rilascia ma non dovete esagerare. E poi mi raccomando, fatelo asciugare qualche minuto perché sennò i matti fanno difficoltà ad essere sfumati. Con questa palette io ho già girato due look che però vi farò vedere in un modo molto più coinciso rispetto al solito. Uno perché è stato uno di quei giorni dove non ho attivato il registra e due per fare un video un po' più breve per una volta, scusate gli ultimi video, però io quando inizio a parlare sembro, cioè vado macchinetta e soprattutto quando mi metto a tagliare dico vabbè riduco, però tutte le cose che dico mi sembrano importanti, quindi vengono fuori questi video immensi. Ecco questa volta vorrei cercare di rimanere un po' più sul contenuto. Nel primo look che ho realizzato, ho utilizzato questo colore top, si chiama appunto virtual top come colore di transizione, poi sono andata ad intensificare la piega con il rosa matte. All'angolo esterno ho poi messo questo rosa, rosa più scuro e poi al centro della palpebra, verso l'interno invece ho messo il lilla shimmer, che in realtà secondo me poi sull'occhio tende a rosa più che al lilla, con qualche perlescenza color lilla. Il marrone più scuro l'ho usato invece per definire un po' la rima inferiore verso l'esterno ed infine l'argento nell'angolo interno dell'occhio ed ho intensificato la rima interna con la matita pillow talk. Per il secondo look invece ho utilizzato un colore più caldo da transizione che è questo marrone al centro che sono poi andate ad intensificare con il marrone più scuro. Poi su tutta la palpebra ho messo questo qua che si chiama golden galaxy, che è un bronzo dorato, a me sembra quasi un rose gold in realtà, messo su tutta la palpebra e poi per intensificarne la luminosità ci sono andata sopra con beautyverse che è il party topper, è semplicemente un topper. All'angolo interno ho provato a mettere anche questo topper ma come pensavo non mi piace l'effetto perché mi sembrano dei glitterini sparsi quella, non mi piace e quindi sono andata a sistemarlo di nuovo con l'argento. E questa volta nella rima inferiore sono andata a mettere la parte più opaca del duo di Charlotte Tilbury in copper charge, mi riferisco alla matita. Adesso devo dire che sono indecisa su cosa fare perché vorrei farvi vedere più o meno tutti i colori sulla palpebra come performano anche da soli, quindi vorrei usare da una parte l'argento e dall'altra il topper come colori principali. Allora facciamo così, per usare l'argento vado a prendere come colori di transizione questo qua che è appunto virtual top ed è in questa nuova formula future matte che ho sentito dire essere nuova per Charlotte. Io in realtà da come l'ho sentita descrivere mi ha ricordato la palette nude, nude tutti opachi o almeno opachi barra satinati che era uscita se non sbaglio due anni fa che io non possiedo, quindi non vi so dire se è esattamente la stessa formula, ma a me ha ricordato quella formula lì così vedendola. Vado ad aggiungere un altro po' di virtual top, lo sto applicando con questo pennello che è il refro numero 27. Sono infatti degli ombretti matti sembrano quasi delle creme come consistenza, in cialda non spolverano proprio per niente. Prendo poi questo marrone più scuro che è space chocolate e vado ad intensificare l'angolo esterno con questo pennello che è refro numero 13 e mi mantengo solo sull'angolo esterno. Questo è un marrone cioccolato direi caldo, stessa formula del colore più top, più freddo e lo porto leggermente anche nella rima inferiore. Sono ombretti appunto dalla consistenza quasi cremosa che non fanno polvere, non fanno fallout ed hanno un'applicazione facile, abbastanza facile, facilissimi da sfumare, veramente ci vuole niente. Anche se io di solito insisto un po' nella sfumatura in realtà sono veramente immediati. L'unica cosa sono sì pigmentati però ad esempio io questo marrone cioccolato è vero che non è scurissimo di per sé, non lo riesco ad intensificare più di tanto. Sono costruibili sì però fino a un certo punto. Provo ad intensificarlo ancora un po', so già che più di tanto non riesco, cioè più di così. Anche perché io qua sto tamponando il colore più che sfumarlo, poi lo sfumo solo nei bordi praticamente. Cioè la sfumatura è bellissima, è praticamente perfetta, niente da dire. Però avrei gradito qualcosa di un pochino più scuro e soprattutto più freddo da abbinare a questo colore argento. Che è argento sì, ma uno shift direi azzurrino verde acqua. Vado a prelevare questo argento con il pennello, questo refron numero 2. Scaricare il pennello perché i metallici al contrario dei matt fanno fallout. Lo vado ad applicare con il pennello perché a me questo colore applicato con le dita non mi piace perché è troppo intenso. Questo colore a differenza degli altri ha una base colore ben presente e sembra più metallico rispetto agli altri, che sembrano più sparkling. Il colore di per sé su di me non trovo che sia benissimo se ha tutta questa pigmentazione. Invece con il pennello rimane più soft e mi piace di più l'effetto. Al momento non vedo fallout ma ho scaricato bene il pennello e lì ne è caduto parecchio di prodotto. Con il dito io ho già provato fallout C se non si fa attenzione. Anche qua è bene se si usano le dita tamponare sulla cialda senza andare a scavare e poi tamponare direttamente sull'occhio senza strisciare. Così si evita la maggior parte del fallout. Però con questa palette così brillante, così glitterata qualcosa cade. Vado a rintensificare l'angolo esterno con space chocolate. Non ci sta poi malissimo questo marrone più caldo con questo argento però ecco forse qualcosa di più freddo, di più scuro e di più freddo ci sarebbe stato bene secondo me. E poi con il dito vado a prendere Beautyverse che è questo party topper. So se si vede un color champagne. Lui fa fallout e lo vado ad applicare solamente al centro della palpebra. Con il ref numero 2 metto il colore argentato anche nell'arima inferiore e nella prima parte. Comunque nell'angolo interno prova a mettere questo qua per la seconda volta. Vi ho detto la prima volta non è stato un gran successo. Lui fa fallout, me ne ha fatto anche quando l'ho messo in quest'occhio qua. Boh, a me sembra che non prelevi niente ma vabbè. Qua non posso fare altrimenti che metterlo col pennello. Sì qualcosina ma è di nuovo la stessa storia. A me questi glitter messi nell'angolo interno dicono poco o niente. Preferisco l'argento da usare nell'angolo interno solo che volevo cambiare un po'. Carnagioni diverse dalla mia potrebbero anche usare il lilla e questo qua più dorato. Però io sono troppo chiara per quelli lì. E dopo varie varie stratificazioni si vede qualcosa. Però è di nuovo questo accumulo di glitter un po' sparsi, un po' qua un po' la disomogeneo. Non mi fa impazzire nell'angolo interno. E per concludere vado a mettere in quest'occhio il Cupid Sarro. Questo mi pare sia il numero 2. Comunque il marrone freddo nella rima inferiore interna. E questo è il look completato. Niente di che è molto semplice ma volevo farvi vedere l'argento come performance su tutta la palpebra. Adesso invece andiamo con questo marrone più caldo come colore di transizione. E questo lo applico con un ref numero 1 quindi più compatto del pennello di prima. Infatti mi tengo un po' di più sulla piega e questa volta vado anche su tutta la palpebra. Voglio che sia la mia base. Vedete questi ombretti sono veramente facili da mettere, da sfumare. E adesso sfumo i bordi con il ref numero 27 senza aggiungere colore. Adesso vado di nuovo invece con Space Chocolate e vado ad intensificare anche qua con molta fantasia l'angolo esterno. Adesso quello che volevo fare è usare su tutta la palpebra beautyverse che è appunto il party popper per vedere come va da solo. Quanto è pigmentato, quanta base ha, quanta luce dà. Per questo gli ho messo almeno uno strato sottile del matt sotto. Non è male. E devo dire che ci sta piuttosto adeso pur essendo un matt, motivo per cui io queste cose non le faccio mai. Perché io ho bisogno di un po' di appicciccaticcio per far aggrappare gli shimmer, per farli risaltare di più. Sarà dovuto al fatto che questi matt non sono così polverosi, però devo dire che fanno da ottima base per il topper. Non dico che diano una base appiccicosa, questo no, però naturalmente vanno stratificati. Almeno per quello che voglio io vanno stratificati. Decisamente un topper ha bisogno di una base sotto perché se no sono degli glitter sparsi. Questo vi assicuro che fa fallout. Che li omettiate col pennello, che lo omettiate con il dito, fa fallout. Nell'arima inferiore ripasso il 13 di ref, sporco di Space Chocolate, il marrone più scuro. Come punto luce in questo occhio vado invece a mettere l'argento, che è Cyber Silver. Ve l'ho detto, io ho poca scelta qua con i punti luce, che fa totalmente da contrasto tra il caldo del marrone su tutta palpebra e il punto luce, però non mi dispiace. In questo video mi sono voluta tenere praticamente su un ombretto, su tutta palpebra, per farvene vedere la resa di ogni colore. Spero di esserci riuscita. Però io questa paletta l'ho utilizzata anche andando ad abbinare più colori con magari all'interno della palpebra e non solo nell'angolo interno, questo argento qua. Questa cosa dà l'effetto sirena, che come vi ho detto, spero di avervelo detto, è il mondo a cui si è ispirata a Charlotte Tilbury per questa palette. Da questa parte, nell'arima inferiore, vado a mettere Pillow Talk, di nuovo tanto per cambiare. Sempre lei, però secondo me questa matita con questa palette ci sta veramente bene, perché si abbina bene sia i colori caldi che i rosa. Riguardandomi un po', da questa parte avrei potuto usare con una matita blu. Visto che ho messo l'argento su quasi tutta la palpebra, una matita blu avrebbe ripreso un po' il riflesso di quel colore. E questo è il risultato anche di questo look. Ho aggiunto anche qua il mascara di Huda, matita. Vi lascio alle comparazioni, che vi prometto questa volta sono poche. Un confronto con la palettina di Huda, la Nude Light, questa qua, che oltre al layout mi ha ricordato un pochino la Color Story. E questi sono gli swatches a confronto, sopra la Beauty Verse Palette, sotto la Nude Light di Huda. La Nude Light è più rosata, come Color Story totale, e gli shimmer sono più pigmentati e meno scintillanti, meno sparkling. Adesso vi sguaccio qualche shimmer dalla Bejeweled to Hypnotize. Questi sono alcuni degli shimmer della Bejeweled to Hypnotize, niente a che vedere con quelli della Beauty Verse, a parte i colori, che non c'entra niente, ma vabbè, questi sono più pigmentati, molto più pigmentati rispetto a questi shimmer qua, ma sono anche tanto tanto meno brillantinati rispetto a quelli della Beauty Verse. Questi sono due quad, l'Exaggerize, questo qua, e questo è Pillow Talk Dream. Qua vediamo solamente gli shimmer, per vedere appunto che differenze ci sono soprattutto nel finish. Qua sotto infatti abbiamo il pop dell'Exaggerize, mentre questi sono i due shimmer della Pillow Talk Dreams. Questi qua sono ombretti, con una base colore evidente, molto meno glitterati, mentre il pop dell'Exaggerize è glitterato sì, ma ha delle particelle luminosi molto 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 più piccole, e infatti anche più liscio al tatto rispetto al topper che c'è nella Beauty Verse. Adesso l'ultimo confronto con l'Hypnotizing Pop Shot. Questo è nel colore Smoky Quartz, anche qua il confronto è per il finish, non per il colore. E questi sono gli swatches. Golden Galaxy della Beauty Verse, Smoky Quartz, l'Hypnotizing Pop Shot, Beauty Verse della Beauty Face Palette. Questo è il topper, base colore praticamente inesistente, qua di nuovo si ritrova più una base colore, e questo è Golden Galaxy della nuova palette, anche lui molto glitterato, ma anche lui con una base colore poco presente. Adesso confronto tra le palette viso, quella nuova, il duo in colorazione light to medium, è la Pillow Talk Beauty Fine Face Palette, queste due qua. Questi sono appunto gli swatches delle due palette, questo è l'illuminante più dorato della Beauty Fine Face Palette, questo è quello più rosato, questo è l'illuminante del nuovo duo, questo è il blush del duo, mentre questo è il blush più fucsia della Beauty Fine Face Palette. I due blush sembrano tanto diversi come colore, ma non lo sono. La differenza è soprattutto nel finish, questo è un gel to powder cotto, questa è una polvere, si vede, li ho stratificati entrambi più volte per fare questi swatches e poi li ho sfumati. Questo si sfuma con meno di difficoltà, ma per arrivare a questo swatch ho dovuto stratificare parecchio. Qua invece si stratifica abbastanza bene, poi però sfumando rimane un po' a chiazze, l'aspetto è polveroso. I tre illuminanti, questi due sono simili per finish, diversi per colore. Questo qua è più pescato rispetto a quello più rosato della Beauty Fine Face Palette, ma è anche più spesso, ha una base colore più presente. Questi sono più sottili, anche se questi due contengono glitter, cosa che non contiene questo qua. Questo qua invece è l'illuminante Pillow Talk Multi Glow nella colorazione Romance Light, che però non vi swatcho, perché è lo stesso colore presente nella Beauty Fine Face Palette, questo colore più rosato, solo che qua i colori che nella cialda singola sono stati divisi, qua sono mescolati tutti assieme. Altro illuminante che metto a confronto è l'Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter, ha un nome che è un tema. Questo è nella tonalità Moonlight, come colore è sicuramente diverso, però io Pillow Talk, che sarebbe il più rosato, non ce l'ho. E questi sono gli swatches dei due illuminanti. Questo c'è il da singola Moonlight Glow, mentre questo è quello del duo. Questo è più stratificabile, passa dall'essere molto tranquillo, poi si può stratificare per avere molta più luminosità. Questo ha già una base più presente, anche come colore, è meno sottile. I colori non sono naturalmente paragonabili, perché sono tanto, tanto diversi tra loro. Ed eccoci alle conclusioni. Allora, cosa penso di quest'uscita? Innanzitutto, volevo già dirvelo all'inizio, mi sono dimenticata. Cioè, mi vedete sempre col puccio? Non perché io non mi lavo mai i capelli, io me li lavo, solo che mi metto a girare sempre quando sono da lavare. Oggi in più ho fatto una maschera a capelli, quindi se li vedete un po' strani è quello. Vabbè, non c'entra niente con il video, lo so, scusate, ma ci tenevo a precisare questa cosa. Iniziamo dal duo viso. Come avrete capito, non sono una grande fan di questa uscita. A parte il discorso colori, che è una cosa strettamente personale. Questo corallo così acceso non fa proprio per me. Sul viso dà anche un bel effetto, lo ammetto, mi sta anche bene. Però, se devo essere sincera, secondo me c'è di meglio. Il blush è tanto pigmentato, sì, però secondo me il problema principale è che è una polvere poco pressata, piuttosto polverosa. Scusate il gioco di parole, però è così. Se non si fa attenzione, se ne preleva troppo, se se ne preleva troppo e lo si applica in questo modo, si rischia di fare un po' macchia. Poi è vero, si riesce a sfumare, però bisogna lavorarlo parecchie, perché secondo me tende un po' ad aggrapparsi nel punto in cui si è applicato. È una polvere morbida, per niente secca comunque, non è ad esempio quello di Rimmel, che è molto più secco al tatto. L'illuminante, anche qua c'è di meglio, non è il mio preferito. Io pensavo fosse la stessa cosa di questo qua, questo appunto nel colore Moonlight, è il più chiaro. A me sarebbe piaciuto prenderlo anche nel colore Pillow Talk, quello più rosato. Visto il nome molto simile, pensavo fosse la stessa formula. In realtà no, questo è molto più sottile. Si riesce a stratificare bene, però avere un effetto da molto naturale a più intenso, questo invece no. Ha una base colore più presente, questo invece rimane più trasparente. Pur non contenendo glitter, mi va ad enfatizzare la pelle più di altri suoi stessi illuminanti che contengono glitter. Sul fatto che sia adatta a carnagioni anche medie, oltre che alle fair come la mia, assolutamente sì, perché questo illuminante ha un colore abbastanza scuro da poter essere usato, secondo me, da carnagioni più scure. Lo stesso per il blush, assolutamente sì. Su carnagioni chiare questo illuminante va bene, perché poi amalgamato bene con il blush fa un bellissimo effetto. Non è brutto, però ve lo ripeto, c'è di meglio. Invece, per quanto riguarda la palette viso. Allora, vi ho detto che ero un po' perplessa, nel senso c'era qualcosa che mi stonava, ma non riuscivo a capire cosa fosse. Ed è la cosa che non mi convinceva all'inizio, secondo me. La storia colore, che ha dei matt abbastanza caldi, a parte il primo qua, gli altri sono caldi, anche questo rosa è un rosa caldo. Sono dei bellissimi matt come formula, che vi ripeto, secondo me è uguale a quella della palettina a sei colori. Io non so se riuscite a vedere, dalle dita si percepisce una certa quasi satinatura, nel senso un effetto quasi cremoso per niente polveroso, che poi si traduce nello stesso modo sull'occhio. Sono bellissimi, ultra ultra sfumabili, stratificabili sì, sentirei anche il bisogno di un matt scuro più freddo da abbinare soprattutto a questo argento qua. Ed è questo, secondo me, la cosa che mi stona un po', la mancanza di uno scuro un po' più freddo. E poi questi colori pastello, che su di me, ho capito, non stanno benissimo. Però devo dire che loro, sendo degli shimmer e potendoli abbinare a dei colori che non sono proprio del tutto pastello, riesco a farli funzionare. Invece questo rosa qua ha una texture un po' più polverosa rispetto a questi qua. Non dico più secca, è proprio sembra più polvere e si vede anche dall'impronta lasciata sia dal pennello che con le dita. Qua c'è un po' di kick up minimo, ma c'è. Qua non ce n'è. Altra perplessità che ho un po' su questa palette sono gli shimmer, perché è vero che sono quelli che mi hanno attirato dagli swatches, però poi provandoli li ho trovati un po' più secchini rispetto a cosa pensassi. Questo qua, l'argento, è l'unico che ha una base colore presente. Questi altri qua sembrano più dei topper, sembrano nella stessa formula del topper, invece che dei crystal glow. Questi tre dovrebbero avere la stessa formula dell'argento, ma secondo me è così. Non è o comunque non gli è riuscita così, perché l'argento è molto meno secco di questi qua. Tende, se stratificato, troppo a texturizzare la palpebra. Infatti io lo preferisco applicato con il pennello, perché si riesce a fare uno strato più sottile. Con il dito si tende a metterne troppo lì, secondo me texturizza un po'. Questi qua, invece, non hanno una base colore così presente, anzi quasi per niente. Forse un po' di più questo bronzato. Sono più secchi e quindi sull'occhio bisogna, secondo me, usare una colla per glitter, per farli aderire bene e dare un effetto di colore un po' più presente. Oppure, secondo me, danno appunto l'effetto del topper. Su di me il fatto che siano così secchi li fa performare anche bene in termini di durata. Infatti questi non mi vanno assolutamente nelle pieghe, a differenza di alcuni ombretti di Charlotte molto luminosi e molto cremosi, con cui io ho dei problemi di durata. E mi riferisco a questa palette qua, questa è il The Icon Palette. Ha degli shimmer molto belli, molto luminosi, molto cremosi, più pigmentati di quelli presenti nella nuova palette, ma questi shimmer su di me non durano. Questo fatto di essere così secchini può avere anche un lato positivo. Devo dire che questa palette mi sta piacendo più di quello che mi aspettassi. Mi sta piacendo di più utilizzandola. Riconosco il fatto che nella gamma di Charlotte Tilbury non ci sia niente del genere in termini di colorazioni, ma neanche nei semplici matt. Non posseggo le palette composte anche da illuminante, blush, cipria e gli ombretti. Ma nelle palette che ho io, i marroncini semplici, non dico neutro o freddi, ma marroncini le posso, credo, contare sulle dita di una mano e neanche finirla, perché in praticamente tutte le palette di Charlotte Tilbury, invece dei marroncini come transizione per intensificare quello che volete, ci sono spesso dei rosa. Rosa più marroni, più caldi, rosa aranciati. Raramente dei marroncini. Questo schema colore è assolutamente unico in Charlotte Tilbury, non così unico secondo me in altri brand. Devo essere sincera, l'anno scorso mi mancava l'uscita della palette natalizia, quest'anno invece mi mancano gli hypnotizing pop shot, che io spero sempre che Charlotte faccia tornare nelle colorazioni che ora sono fuori produzione e che magari tiri fuori anche in altri colori interessanti. Cosa che mi fa piacere di questa palette è che alla fine all'interno contiene dei colori simili ad alcuni hypnotizing pop shot che io non ho preso. Rose gold, pillow talk e extreme violet, penso si chiamasse così, che io non ho preso perché sono appunto ombretti mono e avevo paura di utilizzarli poco. Avendoli simili qua ne sono felice. Non dico che siano la stessa cosa perché secondo me come formule sono diversi. Gli hypnotizing pop shot sono più pigmentati, più morbidi, anche se brillanti allo stesso tempo. Se non vi piacciono i glitter effetto luminoso, effetto bagnato, ombretti super wow da party, da serata, così lasciate perdere però questa palette. Perché questa palette è praticamente una palette di glitter che possono anche essere usati come ombretti mono, però mono, molto glitterati, molto sparkling, molto luminosi. Motivo per cui meglio fare la base dopo gli occhi. E dopo aver blatterato spero questa volta per non troppo tempo, io vi lascio, grazie infinite della compagnia, mi auguro di rivedervi nel prossimo video. Ciao, alla prossima!